La prestazione è stata buona, quindi sono contento della prestazione, ci dispiace aver preso l'ultimo gol agli ultimi due minuti, comunque eravamo riusciti a pareggiare all'ultimo e se continuiamo così, giochiamo così, possiamo fare un bel campionato. Mi dispiace che stanno un po' di mesi che non ho tutta la squadra al completo, però voglio fare i complimenti a chi ha giocato di meno, oggi ha messo tutto e quindi alla prossima cercheremo di giocarla così e di vincerla.